Alizia Costato, allora al termine di una stagione lunga, difficile, siete riusciti a eliminare anche avversari importanti, però ancora non avete fatto nulla. Abbiamo fatto diverse partite difficili, abbiamo giocato contro avversari molto forti, con anche molta più esperienza di noi, visto che noi siamo un gruppo di tutti anni del 19. E' stato molto bello anche giocare con questo gruppo, comunque sono dietro quest'anno in Serie B. Senti, avete fatto questo campionato di Serie B, che tipo di campionato è stato? E' stato un campionato molto duro, perché nel nostro girono c'erano delle squadre molto forti, molto preparate, però abbiamo cercato di affrontare una partita alla volta, vedendo molto le strategie avversarie. E quindi abbiamo cercato di prepararci al meglio passo dopo passo, ovviamente tenendo conto anche degli obiettivi giovanili, quindi delle finali nazionali del 19 e delle finali nazionali del 17. Però fino a ora è andata bene, quindi speriamo di riuscire a toglierci questa ultima soddisfazione. E sulle finali che mi dici, sulle finali che vi hanno visto trionfare? Sì, il 2 giugno abbiamo vinto lo scudetto nel 17, il terzo scudetto della società, sicuramente è stata una bellissima esperienza e anche in quel caso abbiamo giocato contro squadre veramente molto preparate. Molti non si aspettavano che riuscissimo a vincere, però alla fine ce l'abbiamo fatta perché siamo stati bravi a giocare insieme, ognuna di noi si fidava della compagna e quindi eravamo molto unite e questo ci ha aiutato tanto.